All'aeroporto dell'Urbe, il generale Raffaele, nuovo capo di stato maggiore dell'aeronautica, per una cerimonia che ha anche buon auspicio al suo lavoro. Vi partecipa il ministro Taviani, qui salutato dai generali Fornara e Mancinelli. Sono sul campo cinque nuovi elicotteri tipo Bell, i primi che l'Europa costruisca in serie. Se ne è aggiudicata per concorso la fabbricazione un'azienda privata italiana, come Domenico Agusta ricorda al ministro. L'ambulanza con due barelle è una delle parecchie versioni. Dei cinque apparecchi oggi consegnati, quattro vanno all'aeronautica, uno all'agricoltura per nebulizzare antiparassitari. Velocità massima 160, tre ore e mezza di autonomia. Ne costruiremo dieci al mese, forniremo i ricambi a tutta Europa, un titolo di più per la nostra industria aeronautica. Grazie. Grazie.